Sì, è una partita molto faticosa perché il Canada è una squadra molto forte fisicamente e oggi la sabbia era veramente pesante e quindi mi ha fatto un po' fatica. Senti, ti sei trovato meno bene del solito forse con Gennaro, la coppia del gol oggi non è andata in rete, è mancato lui? No, non è mancato perché Gennaro poi si sente quando quando manca, non quando c'è. Oggi era difficile per tutte, mi ha fatto tutto in fatica, è stata veramente dura e non pensavamo di trovare un, ripeto, una sabbia così pesante e abbiamo un po' faticato però, insomma, andata bene, dai. Tutti si aspettavano Francia-Italia in finale, invece arriva l'Honduras, l'avete visto? L'Honduras l'abbiamo visto, giocatori molto rapidi, forti fisicamente e quasi guardando la semifinale speravamo che passasse la Francia perché si vedeva che l'Honduras aveva qualcosa in più. Domani incontreremo l'Honduras e vedremo un po' che fine faremo. Grazie a tutti.